Cambiare la narrazione del Sud è uno degli obiettivi della Carta di Napoli, documento presentato al Ministero della Cultura. Vediamo di cosa si tratta nel servizio di Francesca Cosentino. Il Mezzogiorno, centro del Mediterraneo, che torna ad essere il ponte strategico per la crescita di tutta l'Europa. La Carta di Napoli è una sfida che lancia a Feuromed, il neonato festival europeo del Mediterraneo, che ha presentato al Ministero della Cultura la Carta di Napoli, con la quale si rimette al centro la politica per il Sud con un asse verso l'Africa. Bisogna dialogare con l'Africa e assumere un ruolo importante che la storia ci impone all'interno del Mediterraneo. Il Sud è stato detto che con le sue potenzialità economico-industriali, che non hanno nulla da invidiare al Nord, può e deve contribuire alla redazione del DEF, il documento di economia e finanza, e offrire le proprie piattaforme logistica e dei trasporti e formare il capitale umano attraverso una summer school, che quest'anno si svolgerà la prima settimana di luglio, a Polica, a Salerno. E' documentato che il Sud è un'altra cosa, che le piccole e medie imprese del mesogiorno hanno un epidaio, un valore aggiunto pari a quello di una quota ristrettissima di eccellenza delle imprese piccole e medie del Nord. Una nuova centralità del Sud, un Sud che rappresenta un'opportunità per l'Italia e per l'Europa come grande ponte di collegamento col bacino del Mediterraneo, con l'Africa, sia per quanto riguarda gli aspetti formativi, per gli aspetti energetici, ma anche di sviluppo economico.